Ciao a tutti raga, innanzitutto grazie di cuore e un saluto ai nuovi iscritti, grazie per il supporto, ciò mi spinge ad andare avanti e poi grazie per avermi lasciato tanti commenti sotto il video del veganesimo, anche perché hanno dato origine a interessanti scambi d'opinione. Allora, non vorrei sprofondare nella classica retorica youtubeica del non volevo fare questo video, ma però in realtà davvero non volevo fare questo video, non avevo alcuna intenzione di finanziare questo libro che ha già venduto tante troppe copie, ovviamente mi riferisco a Odio gli uomini di Pauline Hermange, non lo so, non ho messo il dato francese, comunque lei. In realtà credevo anche che ne avrebbero parlato in tanti, quindi non mi sembrava necessario fare un video a riguardo, però poi sono andata su youtube e quando ho digitato Odio gli uomini mi sono usciti davvero pochi video a riguardo e lo sto per dire tutti da parte di uomini. Ora, lo so che sottolineare questa cosa ha quel sapore terribile di sessismo che non mi appartiene, però in realtà decido di fare questo video perché non mi va che le recensioni provengano da persone che sono il bersaglio del libro, cioè non ho trovato giusto che passasse l'idea che questo libro faccia cagare solo agli uomini perché fa cagare anche me. Qualcuno sarà già lì pronto a digitare ancella del patriarcato, ormai questa etichetta viene data a chiunque osi esprimere un'opinione anche levemente diversa da quello che è il femminismo dei social, anche quando questa opinione è supportata da dei ragionamenti, da alcuni discorsi, cosa che ragazzi, vi assicuro, in questo libro è totalmente assente. Per fare questo video ho comprato la versione digitale del libro e credetemi 6 euro sono anche troppi per questo libro, ma lo sono anche per chi sostiene l'idea dell'autrice perché è un libro sterile, totalmente privo di una struttura, di ragionamento. Io davvero lo sconsiglio a tutti. Ci ho trovato solo frasi sterili che non arricchiscono in nessun modo. Difatti avrei potuto fare un video nel quale commentavo tante, per non dire tutte le frasi dell'autrice, ma innanzitutto sarebbe stato un video molto banale perché lei scrive delle banalità. E poi ho già ampiamente fatto ricorso alla vostra pazienza nel video scorso, quindi cercherò di essere breve e cercherò soprattutto di portare il mio punto di vista essenzialmente su tre concetti. Sul concetto di misandria, su ciò che l'autrice mi ha trasmesso proprio come persona e poi sul concetto che vede gli uomini esclusi dalla lotta femminista. Ma andiamo nel merito. Se mi vedete leggere delle cose è perché non voglio che si pensi che io possa aver esagerato delle cose e perché spesso le parole che utilizza l'autrice sono molto forti e molto stupide. Quindi responsabilità sua. Allora, come il titolo suggerisce, il libro è basato proprio sulla misandria. E fin dalle prime pagine l'autrice sostiene che Una donna che odia gli uomini non sia altrettanto pericolosa di un uomo che odia le donne. La misandria non esiste perché non esiste un sistema organizzato a tutti i livelli che abbia come scopo il voler sminuire o reprimere gli uomini. In realtà, guardando proprio la definizione da dizionario di misandria che è sostanzialmente un sentimento nei confronti del genere maschile che poi si traduce in odio, ostilità, eccetera, vuol dire che esiste proprio per definizione e questo libro ne è un chiaro esempio. Però devo ammettere che è vero che il gruppo di donne che odia gli uomini oggi non abbia i mezzi e o il potere sociale, economico, politico per discriminarli tutti in quanto tali. Però ciò non può farci chiudere gli occhi dinanzi ad una chiara dichiarazione d'odio verso una categoria che per me è sempre condannabile. Condannabile tanto quanto gli atteggiamenti della mascolinità tossica che poi portano ad azioni terribili a danno delle donne. Anche perché non possiamo sottovalutare il grande potere comunicativo che abbiamo oggi. E chi mi dice che queste parole non si tramutino in fatti? Pensate soltanto su quante persone questo libro avrà fatto presa. E proprio perché dalle parole si può passare ai fatti, secondo me questo libro è, passatemi il termine, condannabile. Sostiene poi che la misandria sia necessaria e addirittura salutare e che odi proprio tutti gli uomini di cui è un'opinione molto bassa. E poi aggiunge una cosa secondo me anche molto contraddittoria perché dice misandria e misoginia non sono le facce della stessa medaglia perché non si equivalgono e perché la prima esiste solo come conseguenza della seconda. La contraddizione secondo me sta nel fatto che lei durante tutto il libro ha dei pregiudizi nei confronti del genere maschile al quale associa tutta una serie di aggettivi, ovviamente negativi, a prescindere. Qualcuno potrebbe dirmi che magari questi atteggiamenti negativi sono soltanto il frutto di un approccio maschilista che tutti noi viviamo fin da quando siamo nati, uomini compresi, che quindi ha portato loro a sviluppare determinate caratteristiche. Ma nel libro lei non menziona minimamente questo tipo di tesi, tant'è vero che tende ad elogiare, a prescindere tutte le donne e a screditare, a prescindere tutti gli uomini. Addirittura delle donne dice qualcosa del tipo «Sono in un continuo processo di aggiornamento», cosa che qualsiasi persona interessante fa. Questo per farvi capire che è sessismo puro e mi chiedo come sia possibile combattere il sessismo praticandolo. E quando ho pensato questa cosa non ho potuto fare a meno di fare un parallelismo con il veganismo, perché anche nel video scorso sostenevo quanto in realtà fosse lecito adottare il pugno di ferro in certe circostanze per salvare delle vite. Però che senso avrebbe lottare in favore di alcune vittime creandone delle altre? Voglio dire che il problema della discriminazione femminile non si risolve certo spostando il mirino della discriminazione, puntandolo sui uomini. Il suo definire la misandria necessaria io l'ho collegata molto ad una sensazione che ho avuto durante tutta la lettura, ossia stavo leggendo i pensieri di una persona immatura che ha scritto una serie di frasi, di concetti, elaborato questa serie di concetti sulla base di un'esperienza di vita e personale piuttosto insoddisfacente. Ma vi faccio alcuni esempi. La misandria sarebbe benefica anche perché ha fatto emergere l'odio che da piccola non riusciva a visualizzare ed esprimere. Già questo denota una forte carenza di consapevolezza emotiva. Tra l'altro, secondo lei, la misandria avrebbe fatto emergere un forte sentimento di sorrellanza che non riusciva a provare prima. E anche qui mi chiedo come si possa dare la colpa di questo a qualcun altro, in questo caso agli uomini. Credo sia una sua mancanza non riuscire a sviluppare un forte senso di sorrellanza con le altre donne, includendo nella sua vita anche gli uomini. E tra l'altro ho intravisto un forte gusto nell'avere un certo potere sulle altre donne. Nel senso, lei dice di voler essere quasi l'ascoltatrice perfetta, ma in realtà fa cose che chiunque con il minimo di cervello farebbe. Per esempio, dice che quando qualcuno va da lei magari manifesta una violenza, non prova minimamente a giustificare l'uomo anche se quell'uomo è suo amico. Ma chi non lo farebbe? Quale persona con un minimo di buonsenso non prenderebbe le parti della vittima? E nel mio, diciamo, giudizio personale all'autrice rientrano tutta una serie di frasi che riguardano il suo passato, quanto lei abbia cercato, si sia sforzata per avere apprezzamenti maschili, quanto lei si sia costretta in abiti scomodi, però sexy, perché era desiderosa di accettazione, di come avesse la testa piena di romanticismo perché viene inculcato alle donne. Sicuramente la società inculca dei comportamenti stereotipati, però mi chiedo come la volontà di essere accettati, di essere ritenuti piacevoli dagli altri non rientri in realtà nella sfera del desiderio del consenso che coinvolge tutti. Tra l'altro, in merito ai comportamenti sociali, stereotipati, c'è da dire che però non si può negare che per fortuna negli ultimi anni la situazione sia migliorata, sarei ipocrita se negassi che le cose sono differenti oggi rispetto a quando mia nonna aveva la mia età. E poi, sempre rifacendomi ad alcune parole del libro, io non so le ragazze che stanno guardando questo video, ma io non ho mai provato questo senso di ammirazione per gli uomini, questa necessità, questo dover essere accettata, questo desiderio di avere per forza un fidanzato, ma credo che come me, moltissime ragazze siano così. Io non sto dicendo che non c'è una forte pressione maschilista nella nostra società, però, se tutti facessimo lo sforzo di fare pace con noi stessi, di comportarci in un modo che per noi sia autentico, di riflettere con la nostra testa, sicuramente le cose andrebbero meglio. E poi dice Non scherzo affatto quando dico che sono misandra, perché fingere il contrario? Non ho voglia di sprecare tempo essendo dolce e carina, perché forse non lo sono poi tanto, e in fondo non è così grave. Certo che non è grave, è grave la stupidità. Tutti abbiamo il diritto di essere noi stessi, e eserciteremo veramente questo diritto soltanto quando smetteremo di trattarlo come una concessione. E perché vi ho parlato di immaturità? Perché ovviamente non posso giudicare una persona che non conosco a fondo, però da quello che ho letto c'erano evidenti carenze proprio caratteriali. Per esempio lei parla di sua madre, del fatto che non riuscisse a comunicare bene con suo padre, e che tutto finisse sempre in una valle di lacrime. Dice della madre che fa proprio fatica a esprimere la propria rabbia, le proprie emozioni, ma come può essere sana? L'incapacità di comprendere le proprie sensazioni e di trasmetterle in una maniera civile all'altro. Viviamo in un mondo che ci costringe a comunicare con gli altri, per fortuna. Imparare a farlo in una maniera adeguata è di fondamentale importanza, quindi lei ha avuto questo esempio genitoriale discutibile, ha assorbito questo atteggiamento, però non menziona un lavoro possibile da fare su di sé, la colpa e degli uomini. Poi l'immaturità, chiamiamola così durante tutto il video, la mostra anche nelle relazioni di coppia. Mi sembrava di leggere le lamentele di una ragazzina, e sull'argomento coppia si pronuncia parecchio e dice cose del tipo, Il mio compagno non è perfetto, ma ad essere onesta non mi stupra o picchia, lave piatti, passa l'aspirapolvere e mi rispetta. E questo essere perfetti? O è solo il minimo? È ovvio che sia il minimo. Ma non bisogna essere delle femministe tossiche per questi concetti, qualsiasi persona che si rispetti a tal punto da non diventare la serva di qualcun altro, arriva alle stesse conclusioni. Tra l'altro, se devo dirla tutta, anche io ovviamente trovo delle cose nel mondo oggi che non reputo corrette, secondo il mio punto di vista, però devo dire che, ad esempio, se mi guardo intorno, vedo che gli uomini che magari nella famiglia d'origine hanno avuto forti esempi di misoginia o di, in generale, macismo, non sempre nella famiglia che poi si creano, adottano gli stessi comportamenti. Noto che piano piano, i ruoli domestici sono sempre meno definiti, per fortuna. E le persone dovrebbero capire che due persone che vivono insieme dovrebbero comportarsi da coinquilini, perché di fatto sono anche quello. E poi dice cose del tipo, mi rivedo mentre spiega a mio marito i principi della comunicazione non violenta per non sfociare in liti burrascose. A parte che lei nel libro dice spesso di non riuscire a comunicare bene, che tutto finisce in lacrime, eccetera, quindi non capisco come possa insegnare poi a qualcuno a comunicare in una maniera adeguata, ma al di là di questo si buona sempre in questa condizione non paritaria col suo compagno. E il capitolo 2 in generale, che è intitolato In coppia con un uomo, è pieno di questo approccio. E dice Non possiamo permetterci di incensare gli uomini per gesti così tristemente banali, come uscire un po' prima dal lavoro per andare a prendere un figlio a scuola. Credo che si debba lavorare davvero tanto per ristabilire, anzi creare, perché non credo ci sia mai stato, un equilibrio genitoriale. Ci sono moltissime cose da dire sull'argomento, cerco di non dilungarmi, ma basti pensare al congelo di maternità. Credo che molti padri avrebbero soltanto piacere nell'avere la possibilità di manifestare la propria genitorialità. Poi su questo argomento mette davvero insieme tante cose, come alcuni cliché dell'uomo che lascia fuori dal frigo il latte, anche se gli è stato detto 15 volte di posarlo, dell'uomo bambino viziato dalla madre, eccetera, anche se lei dice che la madre poi non capisco perché debba avere tutta la responsabilità dell'educazione dei figli, e questo è giustissimo. Però, in generale, io non capisco come una persona di 25 anni, una persona adulta, possa innamorarsi di un uomo del genere, oppure possa avviare una relazione come una persona che non stima. Quando l'ho definita una ragazzina che parla, è perché durante tutto il libro dice cose del tipo che le donne non possono essere single perché hanno, o almeno questa è l'idea diffusa, non credo lo pensi lei, non possono essere single perché hanno meno valore rispetto alle donne che sono possedute dagli uomini, e fa una serie di riflessioni banali sul fatto che bisogna stare con qualcuno quando si desidera davvero stare con qualcuno, forse aveva l'intento ma non è riuscito di scrivere una guida sui consigli di coppia, non lo so, ma è ovvio che in una relazione ci sia una mutua scelta tra le parti e che è impossibile avere una relazione se non si rispetta il partner, se non si stimi il partner, io non capisco come possa stare con un uomo quando lo considera così mediocre, cioè stare con qualcuno deve valere la pena, quel qualcuno ci deve arricchire e noi dobbiamo arricchire l'altro, e dice quando all'interno di una coppia esplode un conflitto dovuto alla vita domestica spesso c'è una donna presa dallo sconforto che lancia un segnale d'allarme e un uomo che sceglie di vedere solo la forma, cioè i pianti e le grida per liquidare quanto c'è sotto. Questa cosa l'ho commentata anche nel video del veganesimo quando dicevo che spesso c'è la tendenza a guardare la superficie di una cosa, magari a guardare le cose più opinabili per mettere in discussione un concetto che ha una sostanza alla base. Ma questo discorso può valere quando ci approcciamo al mondo, ma come si può non avere feeling con la persona con cui si sta? Cioè, se io manifesto un malessere e in maniera sistematica il mio compagno o la mia compagna mostra soltanto insensibilità, c'è proprio qualcosa di coppia da rivedere più che sociale. Questi problemi di coppia si vedono in tantissime frasi che ha scritto, ad esempio accettiamo contro voglia pratiche sessuali che ci fanno sentire a disagio e nascondiamo le nostre fantasie per non inficiare l'immagine rispettabile di donna. Ci sembra strano se la donna fa il primo passo o esprime i propri desideri. Ma con chi siete fidanzate? Se non siete voi stessi in una coppia con una persona con la quale si presume passerete molto tempo, con chi credete di poter essere voi stessi? Certo, potete essere voi stessi con voi stessi, però se si sceglie di stare con qualcuno spesso è anche per condividere la parte più intima di sé. Tra l'altro credo che l'essenza del femminismo oltre alla parità si ha proprio la libertà di poter essere chi si vuole svincolandosi dagli stereotipi sociali perché soltanto svincolandoci dall'idea che gli altri hanno di noi o dal comportamento che gli altri vorrebbero che noi adottassimo che riusciremo a fare pace con noi stessi. Tra l'altro è un paradosso che lei parli di pressione sociale maggiore nei confronti delle donne nel non essere single anche perché il potere sessuale oggi è detenuto dalle donne e questo è indubbio. Ecco più o meno cosa intendevo per una persona immatura proprio a livello personale. Spero di essere riuscita a farmi capire e a darvi una chiara idea anche perché ragazzi non comprate questo libro davvero sono soldi proprio buttati. Però proprio per onestà un piccolissimo spunto interessante nel libro c'è ed è che siano uomini donne adulti o bambini è fondamentale ripetere che gli autori di queste violenze sono quasi sempre gli uomini. Ok sicuramente è un dato interessante che non si può ignorare e bisognerebbe capire con un sociologo con uno psicologo quali siano le ragioni di questa tendenza però dire questa cosa senza provare a trovare un significato senza portare una riflessione o qualsiasi altra cosa è davvero fine a se stessa e poi stesso lei ammette che sia difficile trovare statistiche sugli aggressioni sessuali ai danni di uomini per il tabù sulle violenze e per lo stereotipo sessista secondo cui si presuppone che i maschi siano sempre disposti a far sesso e che quindi non possano essere stuprati. Io in merito a questo vorrei dire che non è poco essere ignorati quanti centri antiviolenze esistono e ciò dimostra che anche parlarne è un grande sollievo per qualcuno che abbia subito qualcosa di così brutto come una violenza quindi discriminare queste minoranze e ignorare il problema è davvero poco umano per concludere se proprio devo trovare un messaggio in questo video è che ovviamente non dobbiamo praticare sessismo in nessun modo e che in generale non dobbiamo praticare discriminazioni di ogni tipo e ho preso una frase a modello lei dice odiare gli uomini in quanto gruppo sociale e spesso anche in quanto individui mi riempie di gioia che effetto vi fa questa frase sono sicura che a molti di voi la frase farebbe un effetto totalmente diverso se al posto di uomini avessi detto ebrei neri donne eccetera e vorrei chiedervi questo è un vantaggio della misoginia c'è il poter sparare queste bombe senza avere reali conseguenze senza avere una pessima pubblicità mediatica oppure è una semplice provocazione che sta a testimoniare che in realtà le donne non vengano prese sul serio io stessa mi sono detta io non sto prendendo sul serio l'autrice o forse mi sto facendo troppi problemi dovrei semplicemente considerare la frase come una qualsiasi frase uscita da una bocca squilibrata voi che ne pensate? oltre ho cercato di informarmi sul perché gli uomini vengano discriminati dalla lotta femminista e vi riporto questa frase come se non potessimo portare avanti la nostra lotta senza di loro come se non lo stessimo facendo già da anni le aggiunge ed è tendenzialmente vero che le mascolinità tossiche che ci opprimono vengono forgiate nei circoli maschili chiusi è quando lasciamo gli uomini da soli che sviluppano i loro peggior difetti quindi a maggior ragione sarebbe benefico includerli no? inoltre le aggiunge che teme che includendo gli uomini nella lotta femminista essi possano prendere troppo spazio ciò per me significa dare agli uomini più potere di quello che in realtà hanno più potere di quello che avrebbero se noi non gliene dessimo così tanto in generale questa cosa davvero non la riesco a capire perché io ho sempre apprezzato le persone che si mettono in prima linea per dei diritti che non riguardano loro in maniera diretta quindi non capisco cosa ci sia di male nel permettere ad un uomo di essere femminista il femminismo è per la parità il femminismo è per tutti